Libero De Rienzo lascia una moglie e due figli molto piccoli, abbiamo raccolto le foto più tenere dell'attore con la sua famiglia. Libero De Rienzo, il celebre attore italiano stroncato da un infarto all'età di 44 anni, oltre a lasciare un grande vuoto nel cinema nostrano, è anche una gravissima perdita per la moglie Marcella Mosca e i due figli piccoli della coppia, di 2 e 6 anni. Libero e Marcella hanno sempre tenuto molto alla loro privacy, rilasciando di rado interviste e dichiarazioni in merito alla loro relazione. Scopriamo insieme quello che è dato sapere sulla famiglia di De Rienzo, colpita da questa tristissima tragedia. Leggi anche, Libero De Rienzo lascia moglie e figli piccoli, come è morto l'attore? Foto Libero De Rienzo, l'attore morto lascia due figli piccoli, foto. Libero De Rienzo è scomparso prematuramente all'età di 44 anni. Nato a Napoli, quartiere Forcella, il 24 febbraio del 1977, l'attore ha ereditato dal padre Fiore De Rienzo la passione per la macchina da presa. Il genitore era stato infatti storico inviato del programma TV Chi l'ha visto? Attualmente, non è ancora nota la data dei funerali, ma di certo si sa che De Rienzo verrà sepolto in Irpinia, al fianco della madre. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Libero avesse due figli piccoli, di 2 e 6 anni, di cui non si conoscono i nomi. Sul proprio profilo Instagram, però, l'attore postava foto dei bimbi o meglio, dell'ombra delle loro silhouette. L'ultimo scatto risale al 4 marzo e li ritrae tutti e tre insieme. Sull'account dell'attore, anche foto di zainetti e giochi, presumibilmente ricordi di momenti passati coi figli. Qui il profilo per poter visualizzare tutti i dolci scatti. Marcella Mosca, moglie di Libero De Rienzo, attore morto a 44 anni per un infarto. Un'altra tenera foto di De Rienzo con la sua famiglia Libero De Rienzo, l'attore morto lascia la moglie Marcella Mosca, foto. Libero De Rienzo, l'attore morto prematuramente scomparso all'età di 44 anni, oltre a due figli piccoli, lascia la moglie Marcella Mosca, affermata set designer con cui aveva condiviso uno dei suoi ultimi film, Fortuna. L'amore per il cinema univa davvero la coppia che aveva infatti dato vita sull'isola di Procida al Festival Arteica. Così diceva l'attore in un'intervista a Leggo del 2015. Il Golfo 24 ha raccolto però un'ulteriore dichiarazione dell'attore, Libero aveva così lasciato intendere di voler trascorrere davvero più tempo possibile sull'isola insieme alla sua famiglia. Marcella Mosca, moglie di Libero De Rienzo, attore morto a 44 anni per un infarto. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.